Ho dedicato buona parte, sto dedicando buona parte della mia vita professionale a regalare la mia competenza a chi vorrebbe esprimere le sue qualità. Sì, mi sono dedicato a fare un po' il talent scout e se si guardano allo specchio tanti riconosceranno che loro hanno guadagnato, grazie al mio aiuto, molto, ma molto, in notorietà, in conoscenza, hanno ricevuto praticamente quella spintarella iniziale che poi ha permesso loro di fare grandi carriere se sono stati coerenti con se stessi oppure di naufragare miseramente, però questo dipende da loro. Certo, negli anni sono diventato molto prudente a fare il talent scout e ad aiutare chi ha talento perché non solo basta avere talento, ma bisogna avere anche lo spessore morale per poter dimostrare veramente che il proprio talento è un autentico talento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.